Il centro di Sportilia ha visto nuovamente XAIM protagonista. Dopo le finali di calcio di inizio mese, dal 9 al 12 giugno si è svolto infatti il campionato nazionale di ginnastica ritmica XAIM. Le piccole ginnaste, circa 200 provenienti da molte regioni, si sono ritrovate sulle colline romagnole per l'evento più importante della stagione. Ottima l'organizzazione presieduta dalla professoressa Maria del Pezzo, consigliera nazionale XAIM e responsabile del settore ginnastica coadiuvata dal suo stato. Tutto è filato liscio, grazie anche alle società, alle istruttrici presenti e al fondamentale apporto e sostegno delle famiglie. Uno spettacolo di sport, ma anche di amicizia e solidarietà, ha dichiarato la professoressa del Pezzo, che ha visto le ginnaste competere in questa armoniosa disciplina, fatta di esercizi individuali, di coppia e di squadra, in programmi con difficoltà crescenti, dalle giovanissime alle categorie di federazione. Si sono confrontate sul corpo libero, la fune, il cerchio, le clavette ed il nastro. Tutte hanno ricevuto gadget, medaglie, magliette ricordo e coppe. I loro sorrisi, ma anche le loro lacrime di gioia, sono stati la nostra più grande ricompensa.